Cosa cambia? Una domanda veramente importante. Prima di tutto cambia la nostra emozione, nel senso che ci sentiamo da tanto tempo liberi insieme alla nostra giunta regionale di poter organizzare la sanità in campagna a secondo dei bisogni dei cittadini, non tenendo conto solo a una serie di parametri ragioneristici ma cominciando davvero a riflettere sui bisogni delle persone e sul migliorare le strutture ancora di più, ancora ulteriormente. Dobbiamo sempre tenere in considerazione i parametri complessivi di tutto quanto l'equilibrio economico-finanziario, ma insomma c'è da dire che adesso la nostra relazione con la giunta sarà più costante, ancora più costante, e riusciremo a offrire una serie di prestazioni in maniera più idonea ai bisogni, come ho detto prima. Credo che inizieremo da subito.